Cronache della città e ci spostiamo a Calatafimi, Segesta, dove è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Ascoltiamo l'intervista al commissario straordinario Francesco Fragale. A dispetto di una situazione generalizzata per i comuni del sud, soprattutto i comuni siciliani in modo particolare, di sofferenza finanziaria da parte degli enti locali, il nostro comune è un comune sano. Ho approvato un bilancio che registra una cassa di circa 600 mila euro. Abbiamo tempi di pagamento delle fatture ai fornitori del comune di 27 giorni, significa meno 3 rispetto al tempo massimo dei 30 giorni. Questo ci comporta l'azzeramento del fondo che viene istituito nel caso in cui si sforano i 30 giorni. La cassa positiva significa non andare in anticipazione di cassa, significa non farci prestare soldi dagli istituti di credito per pagare i fornitori, quindi non pagare interessi passivi. Quindi non pagare interessi passivi vuol dire dare servizi ai cittadini perché le risorse finanziarie vengono utilizzate per dare servizi ai cittadini. Lascio un comune sano. Il 10 di ottobre ci saranno le elezioni con le quali il corpo elettorale di Calatafimi Seggesta sarà chiamato ad eleggere il sindaco, ad eleggere il consiglio comunale. Sono fiero e orgoglioso di lasciare un comune sano che nel panorama generale delle autonomie locali del sud, soprattutto ripeto, è una vera e propria mosca bianca.